Il modo migliore per determinare il fondotinta perfetto per noi. Se sei curiosa, continua a guardare! In fondotinta sappiamo che è necessario per coprire tutti gli inestetismi della nostra pelle e per esaltarla e illuminarla ancora di più. Come facciamo a sceglierlo? Ci sono diversi passi che se seguiti, diciamo passo passo, ci aiutano a capire qual è il fondotinta perfetto per noi. Primo passo, capire il proprio sottotono. Se la parte superficiale della nostra perle può cambiare colore, ci possiamo arrossire, possiamo avere dell'acne, possiamo abbronzarci o meno, il sottotono rimane sempre lo stesso. Abbiamo tre tipologie di sottotono, tra quello freddo, quello caldo e quello neutrale. Quello freddo è quando la tua pelle è tendenzialmente blu, rossa o rosa. Quello caldo, invece, la tua pelle è tendenzialmente marrone, dorata o colore pesca. Invece, quella neutrale ha una combinazione dei colori freddi e colori caldi. Ci sono diversi modi per determinare il proprio sottotono, quali sono il colore dei capelli, il colore degli occhi, vedere se le vene del proprio corpo tendono a essere più bluastre o meno e vedere quali colori ci stanno meglio addosso. In questo modo noi possiamo capire qual è il nostro sottotono. I capelli, naturalmente, neri, castani o biondi, combinati a occhi verdi, grigi o blu, sono indice di avere un sottotono freddo. Mentre se abbiamo occhi nocciola, comunque di un colore caldo, combinati a capelli castano chiaro, ramati o biondi, abbiamo un sottotono caldo. Invece, un misto, diciamo, tra queste due tipologie, abbiamo un sottotono neutro. Se sei un sottotono freddo, i gioielli argento ti stanno meglio, mentre se sei un sottotono caldo, i gioielli dorati sono quelli che ti stanno meglio. Chi ha un sottotono freddo tende a bruciare più facilmente al sole e se si abbronza tende ad essere più rosio, mentre chi ha sottotono di pelle caldo, si abbronzano più facilmente al sole. Guarda il polso. Se il tuo polso ha le vene tendenzialmente blu, hai un sottotono freddo, mentre se le vene del tuo polso hanno un colore tendenzialmente verde, hai un sottotono di pelle caldo. Se è verde e bluastro, hai un sottotono di pelle neutro. Che cosa ci serve sapere sottotono? Ovviamente in questo modo abbiamo la possibilità di scegliere tra le n possibilità di fondotinta che abbiamo a disposizione. Una volta che abbiamo scelto la tonalità, non è finita qui, perché noi in base al nostro tipo di pelle, se abbiamo una pelle secca, una pelle grassa o meno, dobbiamo scegliere il nostro tipo di fondotinta. Un altro passo fondamentale per conoscere, per avere appunto il fondotinta perfetto per noi, è vedere il tipo di pelle. La pelle può essere mista, può essere grassa, può essere secca, può essere una combinazione di tutto questo insieme. E quindi non per forza se noi scegliamo un fondotinta che il colore è perfetto per noi, poi applicato sul nostro viso risulterà diciamo bello. Se hai la pelle grassa, scegli un finish opaco per il fondotinta, meglio in polvere, ma se lo scegli liquido, che non ci siano appunto, che non sia eccessivamente olio, che non sia eccessivamente oleoso. Se hai una pelle invece secca, è meglio avere un fondotinta idratante, che ad esempio ci sono anche fondotinta compatti molto idratanti, e fondotinta in crema appunto idratanti. In questo modo la pelle risulterà molto più luminosa e molto più idratata. Se invece hai una pelle mista, un fondotinta in polvere sarà la soluzione migliore, perché così non tenderà a ingrassarsi la zona del viso, che invece è grassa, e il fondotinta in polvere riesce a coprire tutte queste zone e a soddisfare tutte le zone del nostro viso, sia quelle secche che quelle più grasse. È sempre meglio acquistare un fondotinta che abbia una protezione solare, dai raggi UVA e UVB, perché in questo modo abbiamo una protezione appunto completa. In questo modo sappiamo che non solo risulteremo belle, perché abbiamo scelto un fondotinta perfetto per noi, ma quella bellezza è conservata perché appunto noi la proteggiamo dai raggi esterni. Spero che questo video ti sia stato utile, se è così lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritta, mi farebbe davvero tanto piacere. Io ti aspetto su Instagram, mi trovi su cristina.varone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!